Abbiamo sentito degli spari, avevo della gente lì seduta al tavolo e a un certo punto ci ha spaesati un attimo, non sapevamo cosa era successo, al che siamo usciti e abbiamo appunto visto un ragazzo che stava chiamando l'ambulanza e un altro signore che continuava a urlare, allora l'ambulanza arriva, che cosa? E basta. Aveva il giubbotto, che è un giubbotto scuro, blu scuro, intriso di sangue e sono stato lì finché non è intervenuta l'ambulanza. Ma mai, è la prima volta. A chi è che non preoccupa di cose del genere? Mai visto una roba del genere, una zona tranquilla ecco questa qui. Molta paura, molta paura, certo, certo, perché si viene con i cani, con il nipotino, cioè si ha paura, sì.